Dopo due anni di restrizioni torna a Castiglion Fibocchi la festa della Madonna del Rosario. Dal 30 settembre al 3 di ottobre fitti appuntamenti che riportano la cittadinanza alla tradizione ma che avranno anche l'obiettivo di far conoscere questo splendido territorio. Tra gli appuntamenti più attesi la mostra che riguarda la storia della Ferrari. Sabato 1 ottobre poi ci sarà una bella sorpresa. Questa è la testa di un pistone della macchina di Gilles Villeneuve. E' la macchina con la quale ha vinto il Gran Premio di Spagna nel 21 giugno del 81 che è stata l'ultima sua vittoria. E qui esporti ci sono i guanti con i quali lui ha guidato quella macchina. Il nostro collezionista che si chiama Simone Cherici è riuscito a prenderli e a farli firmare addirittura da lui con la data di questa ultima sua vittoria in Spagna. Ci sono tanti cimeli che ricordano questo storico marchio che compie 90 anni e questo è il motivo per cui voi avete voluto realizzare questa mostra. Ci sarà una ciliegina e che ciliegina? Arriverà una Ferrari? Arriverà una Ferrari-Rivera di Formula 1 e niente poco di meno che quella di Niki Lauda che ha vinto il campionato mondiale nel 1975. Lauda è stato per me il più grande di questi biologici. Non lo posso dire perché molti contestano, però insomma Lauda è Lauda. Il camale quindi in questo caso si veste di rosso? Sì, sembra una cosa strana, però non è così perché il primo motore è nato in Toscana con il primo motore a Scorpio, dico, con Barciante e Matteucci che depositarono il plico all'Accademia dei Giorgofili perché non c'era un ufficio brevetti e nel 1854 non c'era neanche l'Unità d'Italia. E nel plico loro scrivono che questo motore doveva servire ad alleviare la fatica dell'uomo. Quindi nasce il motore con quello scopo. Dopo però viene praticamente messo per la mobilità nelle auto che le prime auto erano cose che fanno sorridere oggi perché erano tricicli praticamente. E la prima, anche questa, c'è una paternità italiana perché è una Bernardi che attualmente si trova a Verona nel 1884. Dirò che anche le gare sono cominciate presto perché le gare cominciarono proprio alla fine dell'Ottocento, nel 1894 in Francia, nel 1895 in Italia. Le gare vere e proprie però cominciano nel 1910 e nel 1922, quindi esattamente 100 anni fa, viene costruito l'autodromo di Monza, che è il primo in Europa e il terzo nel mondo. 90 anni fa poi Enzo Ferrari mette sulla sua Alfa 8C il cavalino rampante per la prima volta. Era il 9 luglio 1932. Tra gli appuntamenti più attesi della domenica, la Fiera del Bestiame. Finalmente siamo riusciti a riportare l'Antica Fiera del Bestiame qui a Castiglionfibocchi. Bestie ovviamente e anche animali da cortile. Quindi andiamo a riscoprire delle tradizioni che avevamo perso e che si vedono in tutti i paesi. Le rievocazioni storiche, le mostre, i mercati dove ci sono appunto le nostre origini, i nostri nonni contadini, finalmente siamo riusciti a riportarle anche qui a Castiglionfibocchi. Quali difficoltà avete avuto? Perché sappiamo che per muovere questo tipo di animali non è così semplice con le restrizioni di oggi, le regole di oggi. Assolutamente, i permessi ovviamente, le strutture. Dobbiamo assolutamente garantire la sicurezza sia agli animali ma anche alle persone. Quindi poter mettere su una struttura importante non è stato così semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Gli animali saranno solo in visione o ci sarà proprio un vero e proprio mercato? Ci sarà una mostra a mercato, quindi i più piccoli saranno anche nel mercato.